Affitti a Venezia, i prezzi scendono e le opportunità salgono. Dopo l'acqua granda che ha colpito Venezia, anche l'economia ha dovuto reinventarsi. La zona dove gli affitti sono più alti è quella della Giudecca, addirittura più della zona di San Marco e di Rialto, mentre Carpenedo e Vissuola, fino a Canoghera, sono le zone dove si può trovare una casa in affitto ad un prezzo più conveniente. Gli esperti del settore immobiliare hanno fatto un'indagine sui prezzi qui a Venezia ed hanno scoperto che vi è stato un arresto dell'aumento dei canoni che perdurava già da diversi anni. In particolare è proprio Venezia, tra le città d'arte d'Italia, quella che soffre di più. Si parla addirittura di un aumento del 216% delle case in affitto e un crollo del 50% della domanda. I prezzi sono scesi, tanto che oggi affittare un bilocale in città costa mediamente 720 euro. Il calo maggiore si è visto nelle aree di Accademia, Salute, Dorsoduro, San Barbara e Santa Marta, nonché San Polo e Santa Croce. Si è apprezzata di più invece la zona di Cipressina, Zellarino e Asseggiano. Sempre secondo gli esperti, questi cambiamenti sono frutto prima del colpo inferto dall'acqua grande e poi dal Covid. Si pensi infatti che la città ha perso il 95% del suo mercato turistico e girando per Venezia strade e calli risultano semivuote, frequentate soprattutto da residenti e poco da persone che vengono in città per ammirarne le bellezze. Si stima che il mercato dovrebbe ripartire intorno al 2022, dopo che sarà risolto il problema del Covid. Bisogna tenere la barra dritta e non cedere, dicono gli esperti. Questo al fine anche di evitare che il settore immobiliare finisca in mani di capitali stranieri e poco raccomandabili. È importante quindi tenere duro per evitare che speculatori possano giocare al ribasso e aggiudicarsi immobili di pregio a prezzi bassi.